Mettrice Fazzi sta per ricominciare il tuo programma su TV 2000 per sempre. Come si fa a fare famiglia per sempre? Non smettendo mai di credere che non importa se si cade, se si sbaglia, se si litiga, ce la si può fare. Cioè per sempre si può realizzare, ed è fatto di tanti piccoli, oggi, in attesa di un domani migliore, quando le cose sono difficili. Però mai mollare. E quanto conta fare rete tra le famiglie per far durare veramente una famiglia? Tantissimo, perché soprattutto nei momenti difficili gli altri, se sono gli amici che credono anche nel per sempre, possono aprirti gli occhi su quelli che sono i tuoi errori. Perché in genere quando si va in crisi il problema riguarda entrambi i singoli della coppia. E gli amici, quelli veri, che credono nella tua famiglia, ti aiutano a recuperare lì dove hai sbagliato. Ti aiutano a guardare il tuo marito con gli occhi dell'amore, a ricordarti perché ti sei innamorata di lui. E loro anche con la loro storia ti fanno vedere che ce la puoi fare. Vai avanti e ti aiutano là dove tu hai bisogno. Grazie! Grazie! Grazie!